Eccoci qua, benvenuti a Una finestra sul mondo, seconda puntata della nuova stagione e oggi parliamo di un altro argomento molto importante. La scorsa settimana abbiamo parlato di vaccini e Green Pass e oggi invece parliamo di spreco alimentare. Eh sì, perché è un tema insomma molto attuale e parleremo anche poi di cucina italiana, ma insomma prima vediamo un attimo di capire che cos'è lo spreco alimentare. Beh, lo spreco alimentare riguarda un po' tutta la filiera agroalimentare, si spreca cibo nel momento della coltivazione, poi nel momento della trasformazione industriale, nella distribuzione e nel consumo domestico, quindi in tutti i vari ambiti purtroppo si consuma cibo. Pensate che si è stimato che ogni anno nel mondo vengono sprecati 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, una cifra pazzesca davvero che fa molto riflettere. Pensate un terzo della produzione alimentare globale, quindi davvero tutto questo cibo viene sprecato, che invece potrebbe andare a sfamare tutta quella gente che purtroppo non ha nulla da mettere sotto i denti. Un cittadino italiano, perché adesso vediamo un po' di arrivare alla situazione italiana, un cittadino italiano in media spreca circa 149 kg di cibo all'anno. Anche questa è una cifra molto notevole e bisogna dire anche però nel 2020, forse perché c'è stato il lockdown, quindi eravamo tutti a casa e abbiamo cucinato un po' di più, si è sprecato meno cibo rispetto agli altri anni. Adesso proprio bisognerà vedere alla fine del 2021 vedere se abbiamo sprecato di più o di meno rispetto allo scorso anno. Forse non tutti lo sanno, ma gli sprechi alimentari hanno delle gravi conseguenze anche in altri ambiti. Pensate che sono responsabili del 6% delle emissioni di gas serra e della dispersione di 253 km3 di acqua. Anche queste sono cifre importanti. Tutto questo però la richiesta di cibo continua ad aumentare. Pensate che anche qui si è fatto una stima. Nel 2050 la domanda di cibo aumenterà del 70%. Quindi se da ora in poi impariamo a sprecare un po' di meno tutto questo cibo, poi ce l'avremo in più e nel 2050 riusciremo a dare da mangiare a tutti, altrimenti la vedo dura. Cosa possiamo fare per cercare di limitare lo spreco di cibo? In Italia è già in vigore da alcuni anni la legge Gadda. Questa legge prevede interventi per la riduzione degli sprechi nelle fasi di produzione, di trasformazione, di distribuzione di prodotti alimentari. E questo è molto importante. Anche se però lo spreco avviene prevalentemente a livello familiare. Quindi siamo noi a casa che sprechiamo tantissimo cibo. Io in primis purtroppo. Quindi dobbiamo tutti impegnarci a sprecare un po' di meno. Ma come fare? E quali sono soprattutto le cause dello spreco. Spesso si acquista troppo cibo e poi questo cibo scade o marcisce. Pensiamo ad esempio alla frutta, alla verdura. E poi a volte non si conoscono anche dei metodi per ridurre gli sprechi. Per esempio come possiamo utilizzare in modo alternativo gli avanzi dei pasti? Questa è una cosa molto importante che dovremmo sapere un po' tutti. E poi si ha anche scarsa consapevolezza degli impatti economici e ambientali degli sprechi. Dunque cosa possiamo fare? Questo è importante. Vediamo qualche consiglio che possiamo mettere in pratica. Beh innanzitutto possiamo controllare sempre la data di scadenza sui prodotti. Poi conservare in modo adeguato i cibi, riutilizzare gli avanzi e comprare solo il necessario. E questo è davvero importante. Beh poi insomma abbiamo parlato di cibo. Parliamo della nostra cucina, la nostra cucina italiana che davvero è apprezzata in tutto il mondo. I paesi a cui piacciono di più i nostri piatti sono la Spagna, il Regno Unito e l'America. Anche se diciamo ciò rimanga tra noi. Però a volte insomma girando un po' per il mondo vediamo insomma dei piatti che ci vengono passati come piatti italiani. Poi cucinano per esempio il pollo alla parmigiana oppure la pizza con l'ananas. Ecco insomma lasciamo perdere. Non entriamo nell'argomento. Comunque vabbè noi italiani oltre ad apprezzare la nostra cucina ovviamente ci piace anche molto quella giapponese, il sushi per esempio un piatto che anche a me piace molto oppure la cucina cinese. E in generale però i piatti più amati dagli italiani sono la pizza, la pasta in tutte le sue eccezioni quindi gli spaghetti alla carbonara, le lasagne alla bolognese, le tagliatelle al ragù. Ecco questi sono un po' i piatti più amati dagli italiani. Adesso mi sta venendo una gran fama immagino anche a voi però insomma. Vediamo adesso però invece il nostro inviato come sempre è andato un po' in giro al mercato e ha fatto un po' di domande alla gente che era lì che acquistava il cibo eccetera e ha chiesto ad esempio ma quali sono i vostri piatti preferiti? E poi vi siete mai chiesti come sia possibile ridurre lo spreco di cibo nel mondo? Bene, vediamo il servizio del nostro inviato e poi ne parliamo insieme. In un mese quante volte fa la spesa al supermercato? Quasi tutti i giorni, poco ma tutti i giorni. Dipende dalla necessità, metta 4-5-6 volte al mese quella grossa e poi quotidianamente ci sono le piccole spese. Spesso, in un mese tante volte, diciamo che più o meno 2 volte a settimana. Ma in un mese la farò 4 volte, più o meno 4 volte, una volta a settimana via. Una volta alla settimana quindi più o meno 4 volte. Dipende, a volte anche troppe, almeno 3-4 volte. 4-5 massimo. Dipende, quando vedo il frigo che piange vado a fare la spesa. Normalmente consuma tutto il cibo che ha acquistato? Sì. No, no, più che altro perché magari cambio dei gusti o voglio di qualcosa di diverso e quindi vado ad acquistare, ma non consumo sempre quello che acquisto. Eh sì, 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 sì. Difficile che butto via roba io, molto difficile. Più o meno sì, sì, solitamente sì. Poco, cioè non sprechiamo quasi niente. Sì, pane, però più che altro no. Non sempre perché molto spesso purtroppo ad esempio la verdura va sprecata. Non tutta, grazie al cielo, però purtroppo capita sì. No, non si butta niente, si recicla tutto. Idem, non si può buttare in questo periodo, bisogna reciclare tutto. Se non sono un tipo che io e mia moglie buttiamo via, rarissimo, rarissimo. La frutta che magari proprio non ce la fai perché non tiene più niente. E cosa si potrebbe fare per ridurre lo spreco di cibo nel mondo? Bella domanda. Vabbè, sarebbe opportuno secondo me acquistare veramente quello che è, perché spesso acquistiamo cose che non sono strettamente necessarie magari, quindi sarebbe opportuno acquistare solo quello che realmente, di cui abbiamo veramente bisogno. Ma bisognerebbe prendere il minimo indispensabile, non l'accessività della spesa, tutto questo. Secondo me sarebbe un problema che si potrebbe risolvere. Comprare il minimo indispensabile è quello che serve senza esagerare, oppure senza comprare cose che alla fine puoi, sì, infatti, piuttosto vai più volte al supermercato. Comprare meno, comprare quello che ti serve, è quello. Mangiare di meno. No, a parte quello, bisogna essere un po' più speculativi nel comprare, non farsi attirare da tutte queste pubblicità che secondo me non vanno bene. Bisogna comprare per quello che si è in casa, se si è in 5 si compra per 5, non per 10. Poi bisogna guardare cosa si ha in casa, anche se uno lavora, io lavoro tutto il giorno, però il frigo lo apro, frigo, dispensa o quant'altro. Cerco di non far scadere nulla. Se scade qualcosa si può mangiare, la settimana dopo non si può, non si deve buttare. E se si butta io ho un cagnolino che ho le galline e mangiano, per cui ci sono anche gli animali. Dovrebbe essere che duri di più la roba, manca quella che uno alle sue piante qualcosa la raccoglie, non tiene. Una volta che aveva le sue piante non gli dava niente. Io ne ho avuto tante, mai marciate. Adesso se non gli dai qualcosa non fai niente. Guardi, noi abbiamo l'orto, quindi ci arrangiamo, ce lo coltiviamo, tutta la verdura, a parte la frutta, la produciamo noi, non sprechiamo nulla. Facciamo il compost e tutto qua. Non so che cosa risponderle, perché proprio lo spreco è tutt'altro, non è soltanto il cibo, è tutto l'insieme lo spreco. Ama di più cucinare o mangiare? Ma diciamo mangiare, questo è normale, però mi diretto anche a cucinare ogni tanto, quindi non è un problema. Ma è un piatto di pasta, una fetta di carne, quello che riesco a cucinare, via. Non sono uno chef. Ma mangiare e cucinare è proprio... Non è proprio il mio... non amo proprio stare in cucina. Tutte e due? Tutte e due direi. Tutte e due cose? Io di più mangiare, anche se mi piace cucinare, non ho tempo. Questo è vero, non ho tempo, per cui butto lì tutto quello che c'è e io faccio all'improvviso. No, cucinare è poco, mangiare. Ambe due? Mangiare si vede, penso. Tutte e due cuciniamo, quindi... insomma. A 50 e 50. Qual è il suo piatto preferito? Mangio di tutto, non ho un piatto preferito. Allora, i preferiti? I salati, quindi magari le paste, cose del genere. Che preferisco invece cucinare sono i dolci. Oddio, bella domanda questa. Ma la pasta è la prima cosa, forse perché è più veloce da fare. A me piace cucinare la carne, per cui dall'arrosto, rolata, pollo e quant'altro. Mi piace tanto fare gli antipasti. Quando ho tempo e dedico un po' più di tempo a cucinare, mi piace fare gli antipasti. La pasta asciutta è un po' di tutti i tipi, lasagne, spezzatini. Le lasagne. La pizza, senza dubbio. Eh, sono gli spaghetti. Questo sì, spaghetti in tutti i modi. Se ho la carbonara o, non lo so, il pomodoro o il sugo. Su queste cose non ho nessuna difficoltà nel mangiare, ecco questo. Allora, vediamo un po' di fare un piccolo riassunto, insomma, delle risposte. Allora, quasi tutti gli intervistati fanno la spesa quattro volte al mese, quindi circa una volta alla settimana e questo va molto bene. Poi normalmente consumano tutto il cibo che acquistano, o almeno questo è quello che ci hanno detto. E magari sì, buttano via la frutta, la verdura, perché sono comunque due prodotti che, come abbiamo già detto prima, si conservano poco e quindi purtroppo sono i primi a essere sprecati. E consigliano tutti, insomma, per ridurre lo spreco alimentare, consigliano di acquistare solo il necessario o il minimo indispensabile. Ecco. E poi la maggior parte degli italiani, parlando, insomma, degli intervistati, parlando appunto di cibo, preferisce mangiare piuttosto che cucinare, però se nessuno cucina come fanno a mangiare, ma non so. E poi, tra i piatti preferiti ci sono la pasta, le lasagne, la pizza, quindi sono i piatti che abbiamo già individuato prima, li ritroviamo anche qui. Ebbene, come ho già fatto la scorsa settimana, vorrei anche questa volta concludere con una frase, che riassuma un po' quello che ci siamo detti. E questa volta è una frase di Leopoldo Arosemena, che dice Essere economi non vuol dire risparmiare di continuo, ma evitare di continuo gli sprechi. Grazie per averci seguito, a giovedì prossimo. Ciao! Ciao!